Presentato in primavera a Roma in occasione dell'IPRIX, dopo essere andato in scena nell'autodromo di Misano, nei circuiti cittadini di Milano e nella pista di Valle Lunga, lo Smart EQ 4CiCup sbarca in Umbria. Sabato 27 e domenica 28 ottobre le 16 Smart Electric EQ che partecipano al primo campionato 100% elettrico di Smart preparate per le competizioni faranno tappa all'autodromo Borsacchini di Magione per una sfida adrenalinica fino all'ultima curva. I piloti professionisti si sfideranno sul circuito dell'autodromo di Magione per vincere questa gara che fa parte di un circuito interno e di un campionato. Le iniziative non finiscono qui, ci saranno veramente tantissime sorprese per i visitatori, ci sarà anche un villaggio, lo Smart Village, dove sarà possibile grandi e piccoli, quindi dedicato anche alle famiglie, misurarsi con degli sport come il free climbing e come tanti altri tipi di sport. Ci sarà anche un mini circuito di Smart per i più piccoli e ad attendervi un ambiente piacevole che è tipico delle gare sportive con i lanci, con l'accoglienza che in questo caso è tipica di Smart. Insomma, due giornate ad alta tensione grazie al primo torneo monomarca dedicato ai motori elettrici, ma anche l'occasione tra una gara e l'altra per prendere parte alle tante attività organizzate dalla concessionaria Rossi Mercedes-Benz all'interno dell'evento. Vedrete che è una sensazione molto particolare, veramente affascinante come tipo di gara, con le tante nostre iniziative, ricordatevi che ci sarà la possibilità anche di guidare, di provare, in questo caso su circuito cittadino, le nuovissime Smart completamente elettriche. È un'occasione per stare insieme, con tanti giochi, con la famiglia e veniteci a trovare. Ci toglieremo le giacche e entreremo a bordo delle vetture e veramente trascorreremo una giornata all'insegna della sportività. Grazie per la visione!